dedicato Jeep Renegade doppia home gestione audio e video tramite usb via voce bluetooth streaming musicale aria condizionata accensione luci viale Palmiro Togliatti 600 viale Palmiro Togliatti 600 viale Palmiro Togliatti o West�n sia insieme qui abbiamo tutte le impostazioni veicolo anticollisione, regolazioni, luci segnali, radar tutto ciò che si può impostare del Jeep Renegade poi qui abbiamo la seconda impostazione dove prende il chilometraggio tutti i dati della macchina Play Store mai mettere aggiornamenti in automatico aggiornamenti preferenza chiedi ogni volta a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel momento in cui il cliente decide di installare la retrocamera ci saranno le linee guide attive con la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.